Buonasera, buonasera a voi. Allora per fortuna che ogni tanto ci sono dei personaggi che hanno così il coraggio di dire la verità, di dire la verità in particolare per quanto riguarda quello che è successo negli ultimi 10, 15, 20 anni in Rai. Ed è di tutta evidenza che se a farlo uno che per anni è stato in Rai, che conosce quindi l'ambiente, conosce soprattutto i personaggi, questo ha un peso molto molto più rilevante. Il personaggio come avrete letto da titolo è Claudio Lippi che non ha bisogno di presentazioni, è stato un grande presentatore degli anni 80-90 presentando trasmissioni molto molto importanti. Ecco, Claudio Lippi di recente ha rilasciato un'intervista al giornale La Stampa, pochissimi giorni fa, 48 ore fa, dove non le ha mandate a dire a certi personaggi che adesso si lamentano perché praticamente questo governo ha deciso dopo tanti tanti anni di dare loro il ben servito, anche perché sappiamo perfettamente, non ne abbiamo dubbi, erano il vero braccio armato dell'informazione, del sistema e quindi del partito democratico italiano. Lui si scaglia violentamente nei confronti ad esempio di Fazio e della sua amichetta, come la chiama, reo di aver intanto guadagnato soldi che erano assolutamente sprepositati, ma appunto di aver sfruttato questa sua possibilità, la possibilità di condurre una trasmissione per fare della propaganda politica, esattamente come lui sottolinea ha fatto anche la annunziata. Un altro tema che lui affronta, che io ho avuto modo di dibattere più volte, di sottolineare più volte, riguarda quello degli omosessuali, degli omosessuali in Rai, non solo in Rai. Io vi ho sempre detto, ormai questo è un mondo che funziona esattamente al contrario nel mondo del lavoro, ne è una testimonianza soprattutto quello che succede da molti anni negli Stati Uniti. Una volta, ed è assolutamente vero, i gay venivano discriminati, venivano anche discriminati per quanto riguarda le possibilità di lavoro. Adesso succede esattamente il contrario. I gay vengono favoriti per vari motivi, perché ormai sono una lobby potentissima, negli Stati Uniti occupano i posti più importanti e per quanto riguarda invece il nostro paese, come dice appunto Claudio Lippi, è semplicemente per propagandare la cosa, per fare coming out. Insomma, si scelgono e si sono scelti dei gay degli indubbi valori professionali. Proprio lui sottolinea questo fatto, tra l'altro nomina l'ex addetto stampa del Movimento 5 Stelle, Casalino, ma ne nomina anche altri che secondo lui hanno delle indubbie qualità e semplicemente sono riusciti a ricoprire determinati posti semplicemente appunto perché erano gay, ripeto, esattamente il contrario di quello che succedeva tanti anni fa dove venivano discriminati. Tra l'altro io di recente ho ascoltato da parte di una cabaretista abruzzese un monologo molto carino, molto interessante, che fa sorridere da un certo punto di vista dove evidenziava il fatto che ormai gli sfigati, quelli emarginati dalla società, sono i cosiddetti, tra virgolette, quelli normali, i etrosessuali. Ecco, siamo noi ormai a essere discriminati, ad avere difficoltà a trovare posto di lavoro, a venire aditati da parte di questi personaggi. E lo abbiamo visto, l'abbiamo visto in tutte le salse, anche durante questo anno televisivo, ad esempio cos'è successo nelle grandi trasmissioni che una volta erano trasmissioni per famiglie e che adesso semplicemente sono delle trasmissioni di propaganda condotte molto spesso da questi personaggi che vengono invitati semplicemente, ripeto, o per fare coming out o per fare semplicemente della propaganda. Ci sono poi, e anche questo abbiamo avuto modo di sottolinearlo, personaggi come Cecchi Paone e tanti altri che da quando hanno fatto coming out hanno sempre più volgarmente, perché lui è un volgarone, esternato questa loro omosessualità accusando poi quelli che li criticano di essere omofobi quando non c'entra assolutamente niente l'omofobia perché qui c'entra semplicemente il sottolineare che ci sono dei personaggi che hanno dei comportamenti inqualificabili, inaccettabili. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.